Siamo con l'Avvocato Maurizio Avaiano, Presidente del Rotary Club di Cavoli di Reni. Presidente, diamo il fatidico annuncio. Chi è il vincitore del premio che avessi nel mondo 2014? Sì, il professor Matteo Santin, che è un brillantissimo docente universitario, diventato uno dei massimi esperti internazionali nel campo della rigenerazione dei tessuti. Siamo molto contenti di questa cosa perché Matteo, tra l'altro, è un amico un po' di tutti quelli che hanno all'intorno ai 50 anni, come me. Per cui per noi è una doppia o tripla, se vogliamo, soddisfazione. La prima soddisfazione, per la verità, è quella di aver rilanciato il premio, un premio che era da 10 anni che non si assegnava più, dal 2004. E questo, devo dire, è stato un merito che ascrivo a Rotary, ma principalmente a due soci. Luigi della Monica e a Felice Scermino, che hanno fortemente voluto questa manifestazione. La seconda soddisfazione è quella di aver puntato su una indicazione di premiandi relativamente giovani. Noi abbiamo stabilito che coloro che potevano partecipare, essere quindi premiati, non dovevano avere più di 55 anni. Quindi anche quest'altra lettura nuova. E un ringraziamento particolare, devo dire, va al sindaco Marco Caldi, che ha favorito la ripresa di questa manifestazione. E anche qui, siamo qui, appunto, anche oggi, in questa bellissima sala di rappresentanza del municipio di Chiava dei Tirreni, proprio grazie alla straordinaria disponibilità dell'amministrazione comunale. Quindi veramente è una bellissima cosa, una bella soddisfazione. Il sabato prossimo, il 20 dicembre, sempre qui al Palazzo di Città, si svolgerà la cerimonia ufficiale di conferimento del premio. Diamo qualche notizia in merito a questa cerimonia, anche con l'invito alla cittadinanza, ovviamente, ad intervenire. Certamente, l'invito alla cittadinanza ad intervenire. In questi giorni verranno anche affissi i manifesti, stiamo diramando gli inviti. Lo so che la stampa, e ringrazio sin da adesso tutti, sta dando molto risalto alla manifestazione. Allora, il 20 dicembre, sabato, aula consigliare del Palazzo di Città di Chiava dei Tirreni, con inizio alle ore 10, c'è la manifestazione proprio di assegnazione del premio. Certamente sarà una manifestazione nello spirito rotariano, nel protocollo rotariano, che non è particolarmente severo o impegnativo, però, certamente, ci sono dei tempi molto precisi da rispettare. Avremo il piacere, soprattutto, di sentire Matteo Santin e di sentire il docente universitario, il professore Ambrosio, che è stato il suo primo maestro all'università. Quindi avremo due, la prolusione del professore Ambrosio e la relazione dell'amico, del premiato Matteo Santin. Certamente sono relazioni che non avranno un carattere molto tecnico, perché ci rendiamo conto che la giornata è una giornata di festa, è una giornata per tutti. Celebrazioni e relazioni di carattere divulgativo, ma certamente saranno molto, molto interessanti. Quindi io mi auguro di avere un'analogo consigliare stracolma, perché è un momento importante per la città, non solo per Matteo Santin, non solo per il Rotary, che ha, ripeto, la massima soddisfazione di questa attività, ma è un momento importante per la città. Siamo con l'architetto Carmene Sassano, commissario dell'Azienda di Soggiorno e Turismo di Cava dei Terreni. Sì, commissario, è ripreso, è ritornato dopo dieci anni il premio che avessi nel mondo e ci sembra che il Rotary Club di Cava dei Terreni l'abbia rilanciato davvero bene. Sono molto contento di essere riuscito attraverso i Rotary a riprendere questo premio. Il Rotary quindi viene ringraziato a nome della città e da parte dell'azienda che ha fondato il premio nel 1982. È una cosa che a Cava non poteva morire, grazie al Rotary riprende vigore e vitalità. e grazie anche al Comune per la verità che ci dà il sostegno e tutti quelli che partecipano a questo premio avrà sicuramente un nuovo vigore. È un premio che il Rotary organizza, ma è un premio della città. Quindi come questo va visto, il riconoscimento viene dato e il riconoscimento della città ai migliori suoi figli che stanno dispersi per il mondo. Credo che adesso, diciamo, il momento di sospensione, il Rotary saprà sicuramente rilanciarlo alla grande anche perché abbiamo, come dire, molti, molti, molti Cavesi in gamba in giro per il mondo. È stato dato un taglio nuovo rispetto al passato che per partecipare al premio Cavesi del mondo non bisognava avere una certa età. anzi, bivergiare il giovane. In un'ottica di rilancio dell'economia italiana e cavese i nostri giovani si stanno facendo loro in giro per il mondo. Credo che quest'anno è andato a Santini il premio ma c'è stata l'indecisione della scelta perché ci sono tanti altri giovani Cavesi e non solo giovani in giro per il mondo in gamba indegni di avere questo premio. C'è tempo anche per loro perché il premio continuerà per i prossimi anni. Siamo con il Vice Sindaco, l'Assessore Vincenzo Landolfi. Vice Sindaco, il rilancio del premio Cavesi nel mondo è certamente un motivo di vanto e di orgoglio per il Comune ma penso per tutta la città di Cava dei Tirreni. Sicuramente siamo orgogliosi di poter conferire annualmente questo premio a uno dei Cavesi e devo dire che abbiamo diverse eccellenze che portano il nome di Cava dei Tirreni in alto nel mondo sia in Europa ma anche in America e nel resto del mondo per cui c'è da assegnare il premio anche per il futuro a diverse personalità di alto rilievo. Devo dire che per quanto riguarda il Professore Santin che conosciamo dall'adolescenza avendo frequentato il liceo grossomodo negli stessi anni c'è un piacere particolare anche perché sappiamo che è figlio del nostro beniamino del calcio il mister Santin e ovviamente diciamo al di là della famiglia che è una famiglia insomma che è riuscita a trasmettere tutti i valori della correttezza, della lealtà ma soprattutto la brillantezza mentale del Professore Santin che lo ha portato all'Università di Brighton a raggiungere dei livelli proprio eccellenti infatti ha un curriculum oserei dire spaventoso e siamo veramente particolarmente felici ed orgogliosi di averlo come cittadino e anche come amico insomma.